Siamo finalmente in estate, giornate calde di giorno, molto molto fresche la sera e la mattina. Questi quadri sono in viaggio, spero che la mia amica Sandra approvi, per Cosila. C'è una casa a Cosila dove vivevano i nonni, il nonno Nino e la nonna Iole, ed è la casa dove è nato papà. Quindi avere questi quadri in esposizione a Cosila per me è molto importante. Nel punto di vista artistico muovo delle situazioni, dei colori, delle idee e dei concetti. Anche le cartoline rappresentano questo modo di viaggiare. Sono contento di portare questi quadri a Cosila. Cosila è una frazione di Biella salendo verso Europa, verso la montagna. Beh, quei colori, quei colori, eh? Buona giornata e buon'estate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.